Oggi è 16 marzo 2018 e ieri 15 marzo 2018 ci sarebbe stato uno scontro a Piazza Pulita il programma di La Sette tra Paolo Becchi e Alessandro Cecchi Paone. Paolo Becchi, il famoso personaggio appartenente al mondo della tv italiana ed anche lui il grande e bravissimo Alessandro Cecchi Paone, personaggio che ha competenze scientifiche, si sarebbero scontrati a proposito dei vaccini. Infatti Alessandro Cecchi Paone avrebbe tentato di interrompere il discorso piuttosto lungo di Becchi e lo stesso Becchi avrebbe perso la pazienza e quindi avrebbe abbandonato lo studio, avrebbe salutato il buon Alessandro Cecchi Paone. Questo dunque sarebbe accaduto ieri 15 marzo 2018 a Piazza Pulita, il programma di intrattenimento politico e non solo che ben onda sulla Sette. Questo dunque sarebbe quanto se ci fosse qualche sbaglio, errore, informazione errata, bene scuso ma ho utilizzato il condizionale e quindi escludo su di me eventuali responsabilità di qualsivoglia natura penale e o civile. Grazie e un saluto e al prossimo video da Nandato Orgeliano.